questo servizio è offerto da trattoria pizzeria all'olimpo cuciniamo solo pesce locale alla maddalena in via principe ammedeo telefono 0 7 8 9 7 3 7 7 9 5 io non so dire per cui mi guido una luce sento una voce e tu nel sogno vieni a me amici di la maddalena tv punto it mi trovo a casa di una persona molto speciale una donna favolosa di cui adesso parleremo e conosceremo che oggi tra l'altro festeggia niente meno che il suo novantesimo compleanno è un piacere un onore per me essere in compagnia di lia origoni una grande stella della rivista del varietà e del teatro a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 60 che ovviamente originaria di la maddalena e che dagli anni 80 è tornata la maddalena e che devo dire che stiamo scoprendo devo dire un po un po no no che stiamo scoprendo un po in ritardo forse perché insomma adesso racconteremo la storia favolosa di questa donna perché ne ha ne ha vissuta veramente tanta non solo legata allo spettacolo ma anche ai momenti storici in cui sono avvenute intanto la conosciamo tantissimi auguri lia perché insomma raggiungere 90 anni e portarseli bene come se li porta devo dire che una cosa molto invidiabile che cosa devo dire io auguri tanto e gli auguri me li fa lei non me li faccio gli auguri che li fanno tutti i nostri telespettatori virtuali della web tv so che tra l'altro lei sta diventando un'esperta del computer quello sì quello è la mia passione con quello ci morirò perché proprio è il mio compagno fedele ma io non faccio per chattare perché lavoro la mia musica sul computer ho rigenerato completamente le registrazioni fatte alla rai nel lontano dal 48 al alla fine finché ho smesso perciò le sto tutte ripulendo e le trasformo in dischi in mp3 caspita espertissima eh voglio vedere allora cerchiamo di ripercorrere un po la storia di questa sua favolosa carriera lei è una fan prodige perché mi raccontava prima che ha iniziato innanzitutto come tutti dalle suore a scuola a quattro anni a quattro anni ho fatto il ero all'asilo e ho cantato e lì c'è un episodio veramente carino che dimostra la la mia grinta ero un'olandesina ero assieme a un compagno che poi ho incontrato era impiegato su sui traghetti infatti mi ha fatto delle matte risate e io stavo cantando ai polli porto il grano tutto felice sano letita dall'andesina mi cascarono i mutandoni e io continuai a cantare piangendo eravamo all'istituto san vincenzo con la madre superiore alla famosa suor gotteland la madre superiore l'ammiraglio c'era tutta la crema di maddalena mi abbracciarono e l'ammiraglio mi regalò una magnifica bambola perché vedere questa bambina di quattro anni che con i lacrimoni continua a cantare con i mutandoni per terra era veramente una scena comica era già un segno perché nello spettacolo si va avanti non finisce là perché ha otto anni sempre dalle suore sempre con suor cecilia allora avevo già otto anni insomma mi insegnò a ballare e a truccarmi a recitare e io facevo una vedette che ritornava da dalla tournée vedete internazionale questo era il mio destino ed era il ricevimento di piccoli personaggi e ho anche una fotografia di questo proprio perché veramente buffo ritrovare dopo tanti anni un ricordo del genere e di lì parte la sua carriera una carriera folgorante per sfolgorante che poi ha trovato devo dire delle tappe molto importanti in personaggi popolarissimi sia della televisione che della rivista italiana partiamo per ordine allora dopo aver vinto diverse borse di studio ha finalmente fatto un provino per la compagnia totomagnale fu un provino anche quello stranissimo perché lavoravo alla televisione e mi proposero perché questo è importante lavoravo giornalmente tutti i giorni insomma alla televisione e il direttore l'allora direttore cocchetti mi propose di fare un spettacolo con loro giro per tutta italia e mi offrì io allora guadagnavo parecchio mi offrì veramente una cascetta al mente ridicolo che io gli dissi grazie ma non ho bisogno di voi sono uscita dalla rai ho chiesto qual era lo spettacolo che poteva essere allestito a roma mi dissero che c'era epifani che allestiva lo spettacolo per totò e io andami presentare epifani quello mi guardò perché era ragazzina insomma mi guardo e mi disse che fai tu io canto fammi sentire e io ho cantato ho cantato tu come hai preso il cuore di Lear e quando feci l'acuto finale i calcinacci del soffitto si staccarono e questo mi guardò premesso che io avevo chiesto 300 lire al giorno ma hanno detto ma tu sei pazza perché allora 1000 lire al mese era già una una vittoria insomma dice no no beh dice mi ricanti per favore la questo brano io l'ho cantato il soffitto un'altra volta mi ha erogato qualche insomma un po di 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 come si chiamano calcinacci e quello mi ha detto te li sei meritati e mi ha dato 300 lire al giorno isolana edilizia la tua ditta di fiducia a parte questo simpatico episodio del calcinaccio che cade che devo dire una situazione molto unica che cosa ci può raccontare un aneddoto legato a questi due grandi personaggi totò e anna magnani beh totò mi adorava veramente ho avuto con lui un legame fortissimo mi ha sempre rispettato mi ha imposto avevo i capelli lunghi di non tagliarmi i capelli perché per lui io ero la signora veramente mi ha sempre molto rispettato la magnani era molto gelosa di me per una ragione semplice che io allora avevo i capelli che portavo un po sciolti sulle spalle lei altrettanto neri come i miei quando eravamo in provincia che lei non era era la grande magnani però non la riconoscevano non la conoscevano come viso vedevano entrare questa brunetta che entrava in un determinato diciamo momento e venivano giù gli applausi convinti che fosse la magnani e allora lei mi ha detto un giorno si metta una parrucca bionda e io dissi no se la metta lei perché io nonostante questo nonostante insomma che la magnani mi fosse leggermente diciamo ostile poi siamo diventati amiche infatti finito lo spettacolo ci siamo incontrate più volte e mi ha chiesto scusa perché un giorno mi diede anche un calcio per farmi andare via io sono sono quella che ha ricevuto forse più calci in palcoscenico perché anche la e bestignani alla scala mi diede un calcio e fu veramente rimproverato dal maestro perlea poi le racconterò comunque parte la sua carriera è una carriera che poi si apre al resto d'europa sì sì sono dopo il mio debutto con totò poi con rabagliati sono stata richiesta da berlino per un anno intero io non volevo andare poi finalmente mi sono decisa e nell'ottobre del 1942 ho debutato alla scala di berlino riprendimi con te con te con te con te